Più che disportarlo è con il lavoro di ascolto che viene fatto con i ragazzi, però direttamente delle classi. Lascio quindi la parola alla dottoressa Maria Chiara Pecoraro e alla dottoressa Ilaria Contorni. Buonasera, vi raccontiamo in questo intervento quello che facciamo con il gruppo classe. Diciamo che andremo molto sul concreto, quindi vi diremo come sono strutturati i nostri interventi e come viene fatta anche la richiesta da parte degli insegnanti. Io direi prima di tutto di dare, diciamo, non una definizione del gruppo classe, ma di spiegare come il gruppo classe viene a costituirsi fin dall'inizio. Quindi lo pensiamo al primo giorno di scuola di una classe di terza media, di prima media scusatemi, oppure il primo giorno di scuola di ragazzi che entrano a far parte di un gruppo classe di primo liceo. Che cos'è che li accomuna? Sinceramente li accomuna l'età, sono accomunati per la loro età, non sono accomunati certo per il fatto che hanno degli interessi comuni, che sono stati indirizzati con uno specifico interesse in questo gruppo classe. Se li accomuna il fatto di essere stati costituiti, potremmo dire istituzionalmente, da qualcuno che ha deciso che quei ragazzi fanno parte di quella classe. Dicendo questo, i ragazzi devono quindi fare un grande sforzo, cioè quello di diventare un gruppo classe. In questa costruzione del gruppo classe ha anche qui un compito fondamentale l'insegnante. L'insegnante quindi, nel momento in cui ha a che fare con i ragazzi, deve avere una visione, diciamo, su due bifocale. Deve porre non solo attenzione al gruppo, ma anche al singolo e quindi prendere atto di questo. Deve costruire una leadership, quindi di essere autorevole, non certo autoritario. E deve essere importante proprio per questa costruzione della classe e, in ultimo, quello che gli compete è anche favorire gli apprendimenti, in fin dei conti. Questo è un lavoro pesante, sappiamo bene, e quindi spesso, come vedremo in seguito, gli insegnanti ci chiedono di intervenire per vedere alcune dinamiche che loro non riescono, in un certo senso, a tenere sotto controllo e hanno necessità di un nostro intervento nella classe. Sempre riferendosi agli insegnanti, abbiamo fatto, nell'anno 2011-2012, abbiamo somministrato questo test sulle relazioni interpersonali, dove, in uno specifico, si facevano domande sugli insegnanti. Come potete vedere, gli insegnanti ripestano un ruolo molto importante per gli alunni, per i ragazzi. Secondo loro sono trattati, innanzitutto, con giustizia dai propri insegnanti, si sentono accettati e è importante per loro essere accettati dai propri insegnanti. Sono motivati a dare il meglio di sé, dai propri insegnanti, vedete che l'80% addirittura delle ragazze tiene molto a cuore questa cosa e lo stesso tengono a cuore il proprio insegnante. Quindi diciamo che l'insegnante ha un ruolo particolare all'interno del gruppo classe, come abbiamo ben visto da vari interventi che ci sono stati questa mattina. Però, dobbiamo dire che, purtroppo, l'insegnante deve anche svolgere il suo compito primario, come ho detto precedentemente, che è quello di insegnare. A volte però gli si chiede di essere anche un genitore sostitutivo, di essere un confessore, a volte anche uno psicologo. Infatti alcuni insegnanti ci dicono, ma io ho detto a questo ragazzo questa cosa, oppure ho agito con il gruppo classe in questo modo, ho fatto bene, non ho fatto bene, mi aiuti, che cosa posso fare? E quindi spesso gli insegnanti si trovano in situazioni che vanno al di là del loro ruolo, che vanno a preoccupare molto la loro figura all'interno del gruppo classe. Di conseguenza ci siamo noi, che non solo lavoriamo, come abbiamo visto, un modello di sportello d'ascolto vis-à-vis, ma è importante anche unire queste forze, quindi unire lo sportello d'ascolto degli alunni, quello dei genitori, ma anche fare degli interventi con il gruppo classe. Certo, gli interventi che facciamo consistono essenzialmente in tre incontri di due ore ciascuno, sono interventi molto rapidi, sono interventi che vanno a cogliere la problematicità che c'è in quel momento. Dico questo perché noi spesso diciamo agli insegnanti che sarebbe importante non solo fare un intervento o tre incontri, ma riproporre questi interventi anche altre volte durante l'anno scolastico, però qui subentra un'altra variabile che è quella della didattica, cioè a un certo punto gli insegnanti non hanno più tempo tra scioperi, scuole chiuse, feste, ponti eccetera eccetera, arrivano a fine anno praticamente quasi in pari con il programma scolastico e quindi non c'è possibilità di poter intervenire ulteriormente nelle scuole. Comunque i nostri laboratori esperienziali in un certo senso aprono un po' e danno delle indicazioni a quello che può essere poi un lavoro che gli insegnanti possono fare all'interno del gruppo classe nel loro ruolo di insegnante. Spesso chi fa la richiesta è la funzione strumentale, cioè il professore che ha il ruolo di funzione strumentale all'interno della scuola, altre volte è il professore che ha difficoltà nella gestione delle dinamiche della classe, altre volte ci sono stati in casi in cui sono stati i stessi genitori che hanno richiesto l'intervento perché hanno notato delle difficoltà dei figli oppure di alcuni ragazzi all'interno del gruppo classe e quindi ci hanno chiesto di intervenire. Altre volte sono stati i stessi ragazzi che sentendo anche i loro compagni che avevano già fatto questa esperienza di poter entrare in classe e lavorare con la loro classe perché? Perché poco coesa, perché si prendono in giro, perché c'è un ragazzo che è venuto da un'altra scuola e fa il bulletto. Le motivazioni sono tante. Abbiamo fatto una sorta di percentuale rispetto agli ultimi cinque anni, rispetto a questi 1100 incontri che abbiamo fatto nelle scuole e abbiamo visto che il 70% degli incontri richiesti era essenzialmente sulla coesione del gruppo classe, quindi sulla divisione, sulla competizione, ma anche sull'integrazione perché in questi ultimi anni abbiamo visto che molti ragazzi extracomunitari, comunque provenienti da nazioni diverse, che entrano in questi nuovi gruppi oppure che non riescono a integrarsi hanno bisogno di un aiuto, quindi attraverso i nostri laboratori esperienziali cerchiamo di favorire la coesione. Altro 20% riguarda l'aggressività, il bullismo, le prese in giro, il rispetto per l'autorità, questo sempre per quanto riguarda le richieste che ci vengono fatte. Poi abbiamo avuto un 5% di laboratori esperienziali a tematiche precise, quindi sull'affettività, sulla sessualità, sulle droghe, sull'alcol. Abbiamo visto che stamattina con il dottor Bianchi abbiamo fatto diverse campagne rispetto all'alcol, rispetto alle tossicodipendenze, rispetto anche alle tematiche legate alla femminilità, e poi abbiamo avuto anche dei laboratori a tematiche specifiche. Abbiamo parlato di lutti, abbiamo parlato di disturbi alimentari, di autolesionismo, perché in quel caso in cui c'era presente una situazione, un disturbo talo, tale che non solo il soggetto ne li sente, ma anche l'intera classe. Molte volte vengono allo sportello d'ascolto i compagni, gli amici, che sono spaventatissimi da queste situazioni. In questo caso noi ci chiedono di intervenire per non certo parlare della tematica vera e specifica dell'autolesionismo, però di che cos'è l'aggressività, ad esempio, di come possiamo anche essere aggressivi nei nostri confronti. Quindi questo, parlando in classe, può essere d'aiuto all'intero sistema. Anche rispetto a quello che dicevo prima dell'aggressività, nel questionario fatto nel 2013-2014, sul rispetto dell'altro, abbiamo chiesto ai ragazzi dove avessero spaventato più spesso la mancanza di rispetto e il 61% dice in scuola in genere. In che modo ti hanno mancato di rispetto? Il 56% dei ragazzi risponde di presa in giro. Questo quindi ci riporta al fatto che spesso, e ci riporta anche alla percentuale che vi ho fatto vedere prima, di quanto è importante lavorare sulla coesione e sul rispetto dell'altro nella stessa classe, perché spesso sono gli stessi ragazzi della classe che prendono in giro un compagno o che mancano di rispetto anche ad altri compagni della stessa classe. Quindi ci è sembrato molto importante, ci sembrava molto importante lavorare in questo senso con il gruppo classe. Le modalità, vi stavo dicendo, di solito facciamo tre incontri della durata di due ore, facciamo un primo incontro con i professori per specificare cosa andremo a fare, oppure capire anche la richiesta che ci fa il professore. E poi facciamo anche un incontro di restituzione, non solo con i ragazzi che viene fatto solitamente alla fine del terzo incontro, ma anche con i professori, appunto dando delle indicazioni su come lavorare sul gruppo classe, su come favorire la coesione, delle dinamiche che abbiamo visto nel particolare che possono essere affrontate con gli strumenti del professore. Altra cosa importante è specificare anche gli obiettivi e gli scopi degli interventi, non solo ai professori in questo caso, ma anche agli stessi ragazzi e indichiamo ai professori come poter chiedere un'autorizzazione, tra virgolette, agli stessi ragazzi di entrare in classe, perché a volte ci è capitato di entrare in classe e ci vedevano sulla porta e tutti si chiedono, ma chi è? Che cosa è? È lo psicologo. Oddio, che succede? Che abbiamo combinato? No, è vero, noi siamo la classe definita più bulla della scuola, noi siamo quelli che facciamo impazzire tutti i professori, allora hanno chiamato lo psicologo per aiutarvi a gestire la classe. E invece no, bisogna chiarire anche con i ragazzi che non è un momento punitivo questo dell'incontro con i ragazzi, ma che potrebbe essere un aiuto per loro per favorire la coesione tra di loro, perché sappiamo che se il gruppo funziona, funziona anche il singolo. A volte abbiamo notato che nei gruppi divisi, dove ci sono aggressività tra i ragazzi, dove ci sono ragazzi più fragili, spesso c'è anche il maggior numero di bocciature, di cambi di scuola, di cambi di classe, quindi lavorare in questo senso aiuta non solo la classe e l'insegnante, ma anche i singoli elementi del gruppo. E poi anche per contenere le fantasie salvifiche dei professori, perché a volte proprio arrivano disperati che non ce la fanno più, come in un certo senso, anche come i genitori dicono, ce la giusti, anche i professori, oddio, questa classe è insupportabile, fate qualche cosa e quindi diciamo sì, noi cerchiamo di aprire un discorso, cerchiamo di lavorare sul gruppo, però poi vediamo, vi possiamo dare delle indicazioni. Tant'è che una volta una professoressa entrando in classe mi dice, ma dottoressa sono sempre uguali. Lo so, facciamo qualcosa, però insomma anche voi dandovi delle indicazioni vedrete che poi riusciamo a migliorare la situazione.